Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora oggi andiamo a fare un unboxing della nuova espansione investigatori, la festa di Hemlock Vale per Arkham Horror, il gioco di carte LCG, espansione di cui abbiamo commentato la news uscita quest'estate, quindi abbiamo visto una preview, abbiamo visto anche una preview della campagna. Devo dire che in questi mesi si sono susseguiti tutta una serie di spoiler su questa espansione investigatori. Io, come sempre, per Arkham volutamente cerco di non andare a spoilerarmi le carte, cosa che invece faccio più di consueto, diciamo, per i Signori degli Anelli e per Marvel, invece per Arkham mi piace mantenere un po' di mistero rispetto a quello che vado un po' a sbustare e poi successivamente giocare. Per cui in realtà so qualcosa che c'è dentro, ho visto sicuramente qualche foto, però più di tanto non mi sono informato. Io vi ricordo, se vi piace il canale, iscrivetevi, che è un modo semplice per farlo crescere, e soprattutto visitate il server Discord di Dovera Gondor, dove troverete tanti altri appassionati con cui interfacciarvi per giocare a questo splendido gioco. Allora, se il sonteriore indugia, andiamo un po' a leggere questo, La festa di Hemlock Vale, orrori sconosciuti provenienti dalle profondità della Terra o dall'infinità del cosmo, possono apparire senza alcun preavviso. Terrori impronunciabili di ogni forma e dimensione attendono famici finché non sarà troppo tardi per fermarli. Spetta i pochi coraggiosi stati del più oculto intelletto, del più fine istinto di sopravvivenza e della fortuna più sfacciata per affrontarli, nella speranza che trionfino prima che gli orrori ci consumino tutti. La festa di Hemlock Vale, l'espansione investigatore, aggiunge 5 nuovi investigatori e tantissime nuove carte giocatore che mi sembra che sono 228, quindi un numero abbastanza notevole, penso assolutamente in linea con tutte le altre espansioni investigatori. Nuove opzioni in personalizzazione del gioco, compreso nuove carte vincolate e nuove carte che sfruttano i segnalini benedizione e maledizione. Infatti all'interno ci sarà anche un dial che ho intravisto, diciamo da qualche foto, anche se non volevo me lo sono in qualche modo andato a spoilerare. Per cui, direi, procediamo con l'unboxing, andiamo ad aggiustare alcune cose. Ok, allora, ecco qui, vediamo cosa troviamo. Troviamo questo malloppone, questo dial che adesso andremo magari a costruire insieme per tener conto delle carte, diciamo dei segnalini benedizione e maledizione che ci sono, un inserto in carta, ovviamente. il libretto, diciamo, delle espansioni investigatori e un altro malloppone di carte. Quindi questo è quello che andiamo a ottenere, ovviamente le carte mini investigatori, eccole qua, che direi che mettiamo qui. Quindi iniziamo un po' a vedere. Anzitutto questo qui, abbiamo un manoletto minimo di quattro pagine, in cui tra l'altro abbiamo anche la pubblicità di Insondabile alla fine, indicatore benedizione e maledizione. Questa espansione include un indicatore per tener traccia del numero di segnalini benedizione e maledizione nel sacchetto del caos in qualsiasi momento. Questo è interessante perché soprattutto certi archetipi che lavorano su, diciamo, sul riempire di segnalini benedizione e maledizione, il sacchetto del caos può essere utile effettivamente andare a mappare quanti sono. Andiamo a vedere un po' com'è. Ecco, ci è voluto un attimo di tempo per poterlo costruire, ma ce l'abbiamo fatta. Indicatore, diciamo, molto semplice, ma anche piuttosto robusto, fatto sempre nel solito materiale. Quindi con questo terremo conto di quelli che sono il numero di segnalini nel sacchetto del caos benedizione e maledizione. Ricordiamo che segnalini benedizione e maledizione hanno questa meccanica che in realtà si rifà a un ciclo precedente, forse quella del divoratore dei sogni, se non ricordo esattamente, in cui sostanzialmente sono dei modificatori che vanno a modificare la vostra pescata. Qui ovviamente ci sono tutte le regole, questi varranno meno due, questi varranno più due, che si sommeranno all'indicatore che andrete a pescare normalmente. Quindi esistono strategie, eccolo qua, i segnalini, benedizione rivelate durante la prova dell'abilità hanno l'effetto seguente più due, rivela un altro segnalino, invece di mettere questo segnalino nel secchetto del caos, rimettono nella riserva dei segnalini. Allora, devo dire che non ci sono grandissime novità, abbiamo questo elusivo, questo vincolo, domande ricorrenti che credo abbiano un senso solo nel momento in cui andremo un po' a vedere quello che succede, anche se qua c'è un'icona di sticarcosa. Andiamo ora a vedere alcune delle carte, che ci sono ovviamente non tutte, anche perché magari ci faremo uno speciale, un po' come stiamo facendo gli speciali sui Top & Worst, quindi vediamo un po' il tenore delle carte, giusto per avere un'idea di ciò di cui andremo a parlare. Il Flevo, dai, diciamo il Flevo, andiamo a vedere un po' a vedere il Flevo, vediamo gli investigatori, intanto c'è un'investigatrice italiana, adesso andremo a vedere. Abbiamo Wilson Richards, il tutto fare, 3-3-3-3, bello, la journey bars, vagabond, riduci di uno il costo risorse del primo supporto strumento che gioca ogni round, ricevi più un valore di abilità durante le prove di abilità dei supporti strumento, mi sembra che la torcia sia uno strumento, effetto di stellina, puoi scambiare un supporto strumento nella tua regia con un supporto strumento nella tua mano, dal costo stampato cari e pari o inferiore, carino. Wilson Richards, carta e strumento di qualsiasi livello, carta e guardiano di livello 0-4, carta e neutrali, altre carte improvvisate o miglioria. Sì, quindi questo è decisamente un guardiano, diciamo, come cosa. Abbiamo ad hoc, improvviso miglioria, assegna ad hoc un strumento supporto arma, dopo che ha risolto una capacità di azione del supporto con questo vento, esaurisce ad hoc, scarta un supporto arma da tua mano, risolve la capacità del supporto scartato, ignorando tutti i costi. E poi abbiamo, ci sta, la riparazione frettolosa, metti in gioco la riparazione frettolosa nella tua ora di minaccia, mentre inneschia le capacità di supporto e controlli, regola 0 il tuo valore di abilità base e la scarti. Va bene, certamente ci sta. Poi abbiamo Kate Windrop, la scienziata, 2424. Mi ricorda un po' la nostra amica Ursula Downs, giusto se si chiama così, dell'era dimenticata, miscatonica, accademico, inizia la partita con la stabilizzazione di flusso in gioco con il lato inattivo a faccia in su, sposta, ah questa l'avevamo commentata nella news, sposta un indizio di Kate Windrop a un supporto scienza o strumenti controlli senza indizi, quando un supporto che controlli con indizi si riesce sia dal gioco, colloca con gli indizi sul tuo luogo. Sì, mi ricordo questa qua, infatti c'è questo stabilizzatore di flusso attivo, stabilizzatore di flusso inattivo, con le varie debolezze, questa era un po' trecosa questo personaggio qua. Vediamo il building, carte studiosi livello 05, quindi diciamo sono costruzioni abbastanza standard a livello di colori, no? Eccola qua, la nostra Alessandra Zorzi, la Contessa, 3424, può effettare un'azione aggiuntiva durante il tuo turno che può essere usata solo per negoziare, effetto di stellina, se è successo scegli un nemico non elite nel tuo luogo, in un luogo collegato, eludi automaticamente il nemico. Carte canaglia di livello 05, sì, qua è giusto per vedere un po' l'idea, quindi diciamo c'è una sorta di ritorno alle origini. Carte di negozia, una sua variante a livello 05, con questo ammaliamento, sono tutti uguali, trucchetto, trucchetto. Solo mazzo, veloce gioco al tuo turno, assegna l'ammaliamento a un nemico non elite, negozia. Ah, puoi scegliere se muovere il nemico con questo evento fino a luogo aperto collegato al suo, oppure effettua un'azione indagine base nel suo luogo, se fallisce una prova di abilità mentre risolui questa capacità, scarta l'ammaliamento. Azione aggiuntiva solo per negoziare, ok? Quindi noi mettiamo questa sul nemico e poi abbiamo l'azione per negoziare. Pio, Zamacona, elusivo, luogo più vicino, Alessandra Zorzi non può negoziare, la prima volta che Alessandra Zorzi negozia di round colloca un destino su Zamacona. Poi abbiamo il Kohaku Narukumi, il folclorista 4431, un 1 in agilità, accademico benedetto maledetto, quindi questo qua lavorerà sui segnalini del caos, i segnalini della borsa del caos. All'inizio del tuo turno puoi scegliere se aggiungere un segnalino benedizione o maledizione a secchetto del caos, no era giusto caos, oppure rimuovere 2 e 2 per effettuare un'azione aggiuntiva, ok carino, questa è tutta sulla manipolazione degli eventi, carte benedetto di livello 05, carte maledetto di livello 05, carte occulto di livello, carte mistico di livello 03. Sì, quindi anche questo è abbastanza standard, più tutte le sue cose, e ha dentro il libro dei morti viventi. Quando un segnalino caos sta per essere rivelato nel tuo luogo esaurisci il libro dei miti viventi, cerca nel secchetto del caos un segnalino o benedizione o maledizione, quello di cui ce ne sono meno in caso di parità scegli tu, e risolvi invece quel segnalino. E poi abbiamo Uray piangente, una debolezza che va bene, non stiamo a guardare. Poi anche questo qui l'abbiamo già commentato, Hank Samson, il contadino, assistente determinato, assistente custode, 33334446, bassino, 3153, quando stai per essere sconfitto, curati invece da negli orrori, cambia questa carta con la sua versione determinato, quindi lui prima è questo e poi diventa determinato, ok? E poi cos'è che ha questo qui? Non può essere curato? Ah, con la sua versione determinato, o quella diciamo che mena con questa base 6, credo, vincolo Hank Samson, sì, ok? Infatti dice, vincolato, con qualsiasi lato a faccia in su, quindi quando lui sta per essere sconfitto, lo facciamo diventare o il contadino che mena, 4163, o diciamo quello un po' più equilibrato, 3344, che comunque è di tutto rispetto, perché 6 più 8 fa 14, 5, 11, 14, quindi è una versione più potenziata. Cuor di leone, gioca quando impegna un nemico non elite, sposta fino a due danni e orroi da Hank Samson a quel nemico, trasformandoli in danni, ovviamente. Ok, quindi questi qui sono gli investigatori. Poi qui c'è la tonnellata di carte giocatori, vediamole un po' veloce, perché appunto vuole essere una guida, ma più che altro un unboxing per capire ciò che ci aspetta. Mulietta ancestrale, dopo che hai sconfitto il nemico, usurisci la mulietta ancestrale, aggiungi la montata di segnalini al secchetto, pare la salute stampata di quel nemico. Ok, ah già, perché in Marvel e in Arkham sono due. Kit di pulizia, 3, lo scorte su kit di pulizia possono essere spese come se fossero scorte o munizioni sui supporti e controlli, carina. Katana, arma due mani, ricevi più di due pugni in questa prova. Se è successo esattamente due punti, puoi esaurire la katana per infliggere più di due danni in attacco. Esaurisci la katana a combatti, usa piede invece di pugno. Beh, questo è un'azione che non costa azione. Interessante, esaurendo la katana. In effetti il costo lo giustifica, perché 4 è tanto. O fuda, amuleto, utilizzi una carica, la prima volta che un segnalino benedetto viene rivelato nel tuo logo ogni round, reintegra questa carica. Scegli un nemico che non li ha il tuo logo e spendi una carica, quel nemico perde la parola chiave all'erte, elusivo, ritorsione sfuggente, fino alla fine del round. Ecco, maschera da lupo, questo l'avevo visto. Ci sono le maschere, se non sbaglio le maschere, che ha questo limite di una carta maschera per investigatore, sono anche quei vantaggi che si trovano nel carnevale degli orrori, che di solito si gioca anche proprio per avere queste maschere, e devo dire che queste le fanno un po' di concorrenza, no? Maschera da lupo, consorte della luna, utilizzo due offerte, dopo che è impegnato un nemico, rientra queste due offerte, spendi l'offerta, ricevi più due in questa prova di abilità. Assoluzione, rivela tre segnalini del caos e segnalini del caos, per ogni segnalino non simbolo rivelato, aggiungi un segnalino benedizione del caos, per ogni segnalino benedizione rivelato, cura un orroro, un investigatore, un supporto alleato nel tuo luogo. Guidato dalla fede, mani in alto, ovviamente andiamo veloce, squadra speciale, arrangiarsi, veloce, gioca solo durante il tuo turno, assegna arrangiarsi, ha un supporto strumento, una tua ora di gioco, limite di uno per supporto, il supporto con questo vento occupa uno slot mano o accessorio in meno. Quindi, diciamo, qual è quando sembra il flavor? Allora, investigatori che hanno un deck building abbastanza lineare, come considerazione, cioè del loro colore di fatto. Ma abbiamo visto forse anche? Carte sopra vissuto di livello 0,5, quindi, diciamo, non sono complessi, se vogliamo, come deck building rispetto ad altri, penso ai confini della terra dove c'erano quegli investigatori che erano blu ma potevano avere carti rosse, erano verde ma potevano avere carte gialle, e così via. Tema benedizione assolutamente chiaro presente, coordinazione occhio a mano, gioco solo durante, e soprattutto strumenti, segnali benedizione, maledizione e strumenti, queste sembrano un po' le nuove meccaniche. Risolve una capacità, azione di un supporto strumento arba che controlli senza pagarne il costo. Carino, costa uno. Ok, forzuto, recuperare le forze, kit di pulizia migliorato, ok, chiaro il concetto, ho più scorte, posso ottenere dei bonus, la lama benedetta che migliora un'altra carta che già esisteva, occhi di Valusia, Valusia? Valusia, la lama di Yoth, qua, lama di Yoth e Valusia, amici dell'era dimenticata, mi ricorda qualcosa, gli occhi di Valusia, e anche la lama di Yoth, gli abissi di Yoth e l'araldo di Valusia. Questa non le leggo volutamente perché non ho una grande esperienza con l'era dimenticata. Raffica di colpi, tattica doppio predestinato, miracolo auspicato, vediamo cosa qui, costa 5, favore benedetto, veloce, un evento che costa 5 punti esperienza, wow. Dopo che uno più segnalini benedetti sono stati rivelati, cerca trete carte vincolate, l'ascensione vale scente, e metti la in gioco, colloca fino a X risorse, trasformandola in desideri, fino al massimo pari al numero di segnalini rivelati. Cos'è questa ascensione evanescente? Se non ci sono desiderie, mettile da parte, quando un investigatore nel tuo lavoro sta per fare una prova di abilità, spegne un desiderio, esaurisci le avvenescenze, risolvi l'effetto di quell'investigatore, in aggiunta a tutti gli altri segnalini. Ok. Diciamo, manipolazione del sacchetto del caos. Ok. Set di chimica, strumento, indaga, se fallisci, scarto, ottieni due risorse, bla bla bla. Dottor Charles West III, possiede uno slot mano aggiuntivo che può essere associato solo a uno supporto strumento, microscopio, strumento, maschera da topo. Anche questo qui, dopo che hai aperto il luogo, reintegrare le risorse, spendi un'offerta, ricevi più più. Miconide Famelico, anche queste le avevamo commentate comunque nella news. Crescita inspiegabile, variabile di control, guardo solo quelle che mi ispirano, indagini approfondite, dagli una lezione, combatti, scegli un supporto tom che controllo, ricevi più x in questo attacco, dove x è il costo staffato di questo troppo, di questo supporto, se è successo, puoi l'udere automaticamente il nemico attaccato, oppure dopo che l'attacco è terminato, risolve una capacità del supporto scelto. Trasmogrifazione, ben finanziato, Gabriel Carillo, il confidente filato, ricevi più uno all'inizio del tuo turno, aggiungi un segnalino, maledizione a sacchetto del caos. Manoferma, quando sai per aver successo una probabilità, esaurisci la manoferma, hai successo di un punto in più, pure di un punto in meno. Questa l'avevamo già forse commentata, perché me la ricordo. Messa a punto, metodo esoterico, occhiale prismatici, confondere, microscopio migliorato, vediamo microscopio migliorato, allora, oggetto, strumento, scienza, dopo che un nemico nel tuo logo è stato luso, con successo sconfitto, colloca una risorsa sul microscopio, doppia zona indaga, ricevi più due per ogni prova, massimo più sei, se è successo, puoi spendere fino a tre prove, per scoprire un pari a montare di indizi, dopo che un nemico nel tuo logo è stato luso, con successo sconfitto. Quindi bisogna eludere. il micone di famerico, tripla copia, analizzato, limite di uno per mazzo. Ok, poi andiamo a vedere il verde, bianca, diecazze, canta la tua canzone, limite di uno per mazzo, utilizzo dieci risorse, wow, esaurisci bianca, negozia, sposta le risorse da bianca, la tua riserva di risorse, x non può essere superiore a 5, effetto è una prova di piede x, se fallisce, note che devi x risorse bianche, puoi cercare la tua carta vincolata al nemico, bianca e genera nel tuo luogo, rimuove dal gioco questa carta. Ah, ok, quindi se dobbiamo dei soldi a bianca, diventa nemica. Ok, interessante, meccanica interessante. Fascicolo compromettente, bulldog revolver, utilizzo tre munizioni, spendi la munizione, puoi usare il piede invece del pugno, interessantissima per alcuni investigatori, dopo che è fallito una prova di abilità, negozano con un nemico, metti in gioco il bulldog revolver dalla tua mano. Documenti falsi, che era già stata spoilerata, maschera da volpe stesso concetto, dopo che è lasciato un gioco con nemici, reintegra, e ricevi più il, come dire, più libro, più piede, osso di balena intagliato, aggiungi da uno a tre segnalini di maledizione, secchetto del caos, e riesci l'osso, ottieni una risorsa, per ogni segnalino aggiunto, ottieni una risorsa aggiuntiva. Beh, certo, diciamo, diluirsi il secchetto del caos, non è mai buono, a meno che non abbiamo qualcosa, che ci aiuta notevolmente, avendo dei segnali di maledizione. Colpo in banca, azzardo, doppio illecito, come costo aggiuntivo per giocare il colpo in banca, spendi un'azione. Cavolo, quindi sono due azioni. Cioè, azione, costo due, gli investigatori nel tuo ruolo ottengono un totale di otto risorse, interessante. Falsa resa, scippo, andiamo a vedere le altre, car nel poco ce n'è, sembra abbastanza chiaro. Te li restituisco, seminare zizzania, wow, bump, trucchetto, negozia, scegli un nemico nel tuo luogo, effettua una prova di qualsiasi abilità 3, se è successo, dare una prova di testa, rimuove un destino da quel nemico, scopri un indizio nel tuo luogo, eludi automaticamente quel nemico, se non è elite, muovilo fino a un luogo collegato, infliggi due danni a quel nemico, molto carino. Fortuna diabolica, pie leggero, il pie leggero Achille, se questa prova di abilità, Rita Young, eccola qua, se questa prova di abilità ha successo intanto di ludra, e poi ludra automaticamente un altro nemico nel tuo luogo, più da multiplayer, probabilmente. Bulldog Revolver nella sua versione potenziata, soffiata, stregare, ecco, vediamo un permanente straordinario, prima di pescare la tua mano di partenza, cerca nel tuo mazzo fino a tre carte, trucchette diverse, segna la faccia in giù, a stregare, quando impegno il nemico, se riesci a stregare, puoi scegliere se pescare una carta assegnata a questo supporto, oppure cercate le nuove carte in cima al tuo mazzo, una copia di una carta assegnata a questo supporto, pescarla e rimescolare il tuo mazzo, interessante, affari sporchi, vamp, potenziato, documenti falsi, vediamo questo documenti falsi che costa 4, supporto costo 2, oggetto illecito, scegli un nemico nel tuo luogo, negozia, effettua una prova di libro 0, aumenta la difficoltà di questa prova di 1 per ogni sospetto su documenti falsi, se è successo scopre un indizio in un luogo collegato, se non hai avuto successo due punti, colloca una risorsa di documenti falsi, trasformandolo nel sospetto, se fallisci, rimetti documenti falsi nella tua mano, maschera da gatto, limite di una carta, dopo che non più destini sono collocati su una carta senza destini, reintegra e ottiene il solito più 2, verga di carna magos, decomposizione di ambra, decomposizione putrescente, decomposizione scarlatta, decomposizione virescente, wow, parlare con i morti l'avevo già vista, atame maligno, aggiungi da 1 o 3 segnalini maledizione secchetto il caos, combate riceve più 2 per ogni segnalino aggiunto, se questo attacco sconfiggente, mi corintrega una carica, un'offerta su un supporto e controlli, chi sa questa come va a scombare, maledetto, influenza ipnotica, olive mcbride, questa se non sbaglio fa parte di uno dei ready to play decks di Sergio, quando stai per rivelare un segnale o caos, si riesce olive, rivela 4 segnalini caos invece di uno, scegli 2 di quei segnalini e ignora gli altri, sempre per la manipolazione del caos, richiamare l'oltre, forma etera, oh, riconoscere i segni, questa c'è una carta famosa, indaga, aggiungi il tuo valore di testa, il tuo valore di abilità, puoi ignorare qualsiasi effetto parola chiave nel tuo luogo, anche se sta per innescarsi, se è successo scopri un indizio aggiuntivo, se è stato rivelato un simbolo durante questa indagine, rimetti, riconoscere i segni nella tua mano a fine del turno, carina, il rasoio spettrale, questa non me l'aspettavo, il rasoio spettrale bellissima, combatti, aggiungi, cioè, non me l'aspettavo nel senso che esiste già il rasoio spettrale, mi sembra che sia senza punti esperienza, qua ha due punti esperienza, combatti, aggiungi il tuo valore di testa, il tuo valore di abilità in questo attacco, immediatamente prima di questo attacco, puoi impegnare il nemico attaccato, infliggi più un danno, più due danni se è il nemico elite, se è stato rivelato un simbolo durante questo attacco, rimetti il rasoio spettrale nella tua mano a fine del turno, quindi queste funzionano molto, quando si manipola il sacchetto del caos, chiave di salumone, porca, hanno dei testi veramente, allora, oggetto tomo benedetto maledetto, se ci sono più segnalini, benedizione che segnalini, benedizione del sacchetto del caos, rimette un segnalino, benedizione del sacchetto del caos, riesce la chiave, cura fino a due danni, se invece ci sono più segnalini, ottieni due risorse, ok, carino, quindi qui a seconda, e qua verrà comodo l'usare questo, ovviamente, per sapere cosa c'è, glifo degli antichi, mi sembra molto denso, in tutti i testi estremamente densi queste carte, si vede che è un'espansione molto advanced, veloce, gioco che è una prova di abilità nel tuo logo, in cui sono stati rivelati due segnalini, maledizione, due segnalini è terminata, se sono stati rivelati due segnalini, maledizione, circa tre due carte vincolate al servitore di ottone, se sono stati rivelati due segnalini, benedizione, circa tre carte vincolate al custodio della chiave, se sono stati rivelati due segnalini e due, fa entrambe le cose, che saranno questo qua, il custodio della chiave, è un supporto, e poi il servitore di ottone, è un altro supporto, va bene, saranno tipo pseudo gemelli questi due, uno che ha quattro di salute, l'altro che ha quattro di sanità mentale, scatola di fiammiferi, carico di pelli, forcone, l'avevamo già visto il forcone, combatti, ricevi più uno al pugno, infliggi più due danni in questo attacco, con due mani, se questo attacco ha successo, perdi il controllo del forcone, assegnalo il tuo luogo, il tuo luogo ottiene, prendi il controllo del forcone, o qualsiasi investigatore nel tuo luogo del forcone, può innescare questa abilità, carino, ci si può passare sostanzialmente il forcone, man mano che si infilza un nemico, si va a passarsi il forcone, aggregandolo al luogo, al luogo, maschera da passero, diversivo elaborato, spinto al limite, guadagnare tempo, che secondo me è un'altra carta, che c'è forse nella versione, l'illustrazione me la ricordo assolutamente, probabilmente è un'altra carta, che c'è nella sua versione potenziata, nel posto sbagliato, al momento giusto, evento costo zero, come costo aggiuntivo, spendi un'azione, quindi sono due azioni, sposta fino a 5 errori, dal tuo investigatore, supporti collegati dagli investigatori, nel tuo luogo, quindi questo è come il colpo in banca, sostanzialmente, per ogni supporto sconfitto con questo effetto, pesca una carta, carino, sì, queste sono carte da multiplayer, direi, lancio lungo, l'avevamo già visto, accetta, persistenza, diavolo, ecco questa è una carta che avevamo spoilerato, quando il tuo turno inizia, sposta un danno dal tuo investigatore a diavolo, quando diavolo è sconfitto, infliggi due danni, ogni nemico è investigatore nel tuo luogo, un'altra grandissima, ascia antincendio, veloce, già l'ascia antincendio umano non era veloce, se non hai risorse nella tua riserva, infliggi più un danno, durante un attacco che usa l'ascia, spendi una risorsa, ricevi più due in questo attacco, quindi è completamente uguale, l'unica differenza è che è veloce, giacca da cacciatore, bussola da marinaia, un'altra che è stata, che c'era già, che è stata evidentemente potenziata, rinsaldare la fede, anche questa secondo me c'era già, veloce, gioca durante una finestra, aggiungi quattro segnalini, forse non aggiungi due segnalini, provvidenziale, simbolo di fede, altra arte che mi dice qualcosa, competitore sfavorito, interessante, permanente, quindi puoi andare a costruirti il tuo mazzo, senza pagare tre, mi sembra che costava il competitore sfavorito, invece in questo caso è un permanente, mentre non hai risorse, ottieni tutto, tutte le statistiche, più uno tutte le statistiche, interessante, queste qua non me le aspettavo, questi sono dei motivi per cui per Arkham, non mi piace spoilerarmi, perché poi trovi delle robe, c'è veramente l'effetto wow, lingua esoterica, direi che qui andiamo super veloce, a momento opportuno, elegante, mentre elegante investita in una prova di abilità durante un'altra azione di negoziato, ottiene tre icone, bello, stella dell'alba, reliquario occulto, permanente, limite di 1 per mazzo, costo 3, quindi un po' tipo il carisma, queste cose qua, possiede uno slot mano accessorio al cano gentile, in cui possono essere associati solo supporti, benedetti, maledetti, diadrema infranto, diadema del crepuscolo, questo scomba con questo, ma mi sembra abbastanza complessi da vedere, e poi abbiamo fritta la schiena, falena d'argento, giuramento di Umama, drytlek, 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 meno mazione alla mano, bene, espansione molto densa, carte che diciamo vanno nella direzione del deck building che mi sembra tutto sommato più semplice da un punto di vista dei colori, un focus sui segnalini di benedizione e maledizione sulle carte strumenti, ma così come prima impressione mi sembra di vedere che non c'è una carta che abbia un testo tra virgolette semplice, cioè che dice fai una cosa, perché ogni carta come abbiamo visto ha un testo estremamente complesso e lungo, il che non è necessariamente un male, ma ovviamente richiederà, cari amici e giocatori di Arkham Horror, di studiarsi bene a fondo queste carte, come giusto che sia per un'espansione così avanzata come la festa di Hemlock Vale, bene, io spero che questo video di unboxing vi sia piaciuto, se così fosse mettete like al canale, commentatelo, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che anche su Arkham stiamo andando a potenziare alcune puntate della Top and Worst, una ci sarà nei prossimi giorni, aspettiamo tutta la community dove anche andremo a regalare una carta insieme per chi partecipa alla live, io come sempre vi ringrazio, ciao, alla prossima!